Silente afroamericano? Piton? Donna? Queste e molte altre voci si stanno affacciando sul nuovo cast della serie di Harry Potter che andrà in onda fra qualche anno su HBO Max. Ma qual è la verità dietro al prossimo cast che ci accompagnerà per i prossimi dieci anni della serie TV? Andiamo a scoprirlo e cerchiamo di capire chi potrebbe interpretare quale personaggio. Ciao, sono Valerio Perrone e bentornati su Ciacca e Azione. Oggi parleremo del cast di Harry Potter per la prossima serie TV prevista da HBO Max sulla sua piattaforma, la nuova piattaforma appunto Warner, ovvero Max. Ma chi saranno i protagonisti della serie TV? Partiamo col dire che molto probabilmente i protagonisti bambini, quindi Harry, Ron ed Hermione saranno interpretati da esordienti, quindi bambini di 11, 12, 13 anni che andranno a ricoprire i ruoli principali come fu appunto per Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint appunto. Quindi vediamo un po' chi saranno gli altri protagonisti. Molto probabilmente avremo un attore afroamericana e lo so, molti di voi staranno già hissando le bandiere con i forconi e le fiamme, ma se devo essere sincero, forse è l'unica bambina, l'unico personaggio della serie e della saga scritta da J.K. Rowling che potrebbe cambiare etnia con qualche piccola aggiunta, ma quella la vedremo più avanti. Vedremo cosa accadrà, ma tra i protagonisti principali lei è quella candidata a cambiare etnia. Partiamo col dire, prima di elencare chi potrebbe interpretare chi, ho seguito un po' delle dinamiche che sono state rispettate per la saga dei film, quindi attori che sono soltanto britannici e ho aggiunto una piccola cosa, ovvero non ho preso gli attori che hanno già realizzato, partecipato alla serie, alla saga dei film dedicata a Harry Potter, quindi tutti gli attori che andrò a elencare per i vari ruoli sono neofiti della saga, quindi vediamo cosa accadrà e ditemi voi poi cosa ne pensate, parliamone nei commenti. Partiamo col mago più potente di tutti, ovvero Silente. Il primo candidato per interpretare Silente è senza dubbio Brian Cox, l'attore già ha un contratto con HBO in quanto lo vede protagonista della serie Sex Action nei panni del capofamiglia, quindi Brian Cox è molto probabilmente uno dei candidati. C'è solo un piccolo problema, l'età. Infatti la carta d'identità non parla a favore dell'attore britannico in quanto ad oggi ha 76 anni e al termine della saga che probabilmente inizierà nel 2026, ne avrà sui 90, quindi fisicamente reggerà, nel senso è un progetto a lungo termine che durerà almeno 10 anni a seconda delle dichiarazioni, quindi iniziare magari nel 2026 con un Brian Cox che a quell'epoca avrebbe 79 anni, arriverà a concludere se la prima stagione iniziasse nel 2027 a 90 anni con l'ultima serie. Sono circa 7 serie, come detto dai produttori, quindi sarebbe veramente faticosa per il buon Brian Cox che auguro campare ben mille anni, quindi. Brian Cox, ottimo candidato, ma la carta d'identità non parla proprio a suo favore. Andiamo sempre con Silente perché se Brian Cox è un ottimo candidato, ma la carta d'identità parla a sfavore, il secondo candidato potrebbe essere Colin Firth. Colin Firth che secondo me sarebbe uno dei migliori attori che potrebbero interpretare Silente. Carta d'identità che parla a favore, ottimo ruolo, abbiamo visto nel discorso del re, quindi un ruolo molto importante nei panni di Re Giorgio. Io lo vedrei benissimo nei panni di Silente e sinceramente sono anche molto molto curioso a questo punto di vederlo interpretare il preside di Hogwarts. La terza scelta ricade direttamente su Jared Harris. Il buon Harris ha 61 anni, anche qui ci siamo con la carta d'identità in quanto si andrebbe a chiudere la serie TV all'età di 75 anni, più o meno. Abbiamo visto Jared Harris lavorare per HBO nella serie capolavoro di HBO Max, ovvero Chernobyl, la quale ha sottolineato il suo grandissimo valore davanti alla videocamera e devo dire che un Jared Harris nei panni di Silente sarebbe un altro bel sogno. Un'opzione jolly che mi ero tenuto per parlarne qui nel video è un Jude Law. Però come detto non voglio prendere attori che hanno già lavorato al franchise di Harry Potter, quindi Jude Law l'abbiamo già visto nei panni di un giovane Silente, in animali fantastici, per questo lo eviterei. Ma mai dire mai. Infine c'è un'opzione che in molti hanno palesato, ovvero un cambio di etnia da parte della sceneggiatura, quindi un Silente con la pelle scura. E chi, se non il buono Idris Selva, potrebbe interpretare il preside di Hogwarts? Lo so, Silente non è mai stato con la pelle scura, ma un cambio di etnia, anche qui, non stonerebbe con il tono del film. Ci sarebbe il problema di chi potrebbe interpretare Aberforth, ma quello è un altro discorso. Idris Selva sicuramente ha grandi doti e grandi capacità davanti alla macchina da presa. Però ultimamente lo vedo in ruoli molto più fisici, come l'abbiamo visto anche in Hobbs & Shaw. Vediamo cosa accadrà, ma un Silente con la pelle scura potrebbe essere una novità, e magari una grande e piacevole novità. Proseguiamo con il guardia caccia di Hogwarts, il buon Hagrid, interpretato nei film da Robbie Coltrane. Qui potrebbe essere interpretato da Nick Frost. Abbiamo visto l'attore in diversi film, in Shaun of the Dead, l'abbiamo visto anche in Tomb Raider del 2018, e anche in Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio. Fisicamente ci siamo, direi, ma la produzione potrebbe stupire. Andiamo con uno degli attori e dei personaggi più attesi della saga, ovvero il Signore Oscuro, Lord Voldemort. Chi potrebbe interpretare Il Signore Oscuro se non Benedict Cumberbatch? L'attore di Doctor Strange ha però un contratto che lo vede legato alla Disney, ancora per un po'. Non sappiamo di preciso quando ritornerà Doctor Strange, ma sappiamo che la Disney ha dei contratti veramente blindati, che non permette a tutti gli attori di partecipare ad altre produzioni, soprattutto se andrebbero in contrasto con i loro prodotti. In questo caso Cumberbatch andrebbe a collaborare con Warner Bros. di HBO, andando sulla diretta concorrente di Disney+, ovvero Max, la nuova piattaforma in arrivo appunto. Cumberbatch è anche accreditato come il buon Ade in Hercules, nel live action che dovrebbe arrivare tra qualche anno, quindi staremo a vedere se sceglieranno Cumberbatch come Lord Voldemort, oppure se vireranno verso altri lì. Altro personaggio molto importante per il buon Harry Potter, ovvero Sirius Black, padrino del maghetto più coraggioso di Hogwarts, e personaggio veramente pilastro della saga scritta da J.K. Rowling. Qui è difficile vedere Sirius Black lontano da Gary Oldman, che ha dato un volto iconico al personaggio, ma devo dire che se devo immaginare un Sirius Black, Aaron Taylor-Johnson potrebbe essere il volto ideale per interpretare l'attore. In questo momento Taylor-Johnson sta lavorando con Sony nelle riprese di Kraven, il cacciatore, ma vediamo quanto dureranno queste riprese e se nel frattempo magari verrà ingaggiato da HBO per rivestire appunto i panni di Sirius Black. Da un Black all'altro, ovvero Bellatrix L'Extrange, cugina di Sirius Black, che come sappiamo nella saga è interpretata ottimamente da Helena Bohan Carter, che qui non so chi potrebbe sostituirla. Difficilmente posso immaginare una Bellatrix diversa da Helen Bohan Carter, ma se c'è un'attrice che può ricoprire quel ruolo e qualsiasi altro ruolo è Rachel Weisz. L'attrice è veramente fantastica, un'icona del cinema e l'abbiamo vista anche in Black Widow. Non so se potrà tornare in futuro nei panni della madre, diciamo, di Helena Belova e della Veto Manera, ma in questo momento la vedo benissimo come Bellatrix L'Extrange e non vedo l'ora di ammirarla in quelle vesti. Chissà se oltre a lei magari la produzione potrà pensare ad un'altra attrice. Quell'always pronunciato nell'ultimo film della saga di Harry Potter, I Doni della Morte, parte 2, rimarrà per sempre nei nostri cuori. Alan Rickman come Piton è veramente, veramente iconico. Un grandissimo personaggio messo in scena da un grandissimo attore che ha fatto innamorare molte persone e molti appassionati della saga lo ricordano come il personaggio migliore dei romanzi di J.K. Rowling perché Piton è evidente, importante ai fini della trama. Ma chi potrebbe interpretare il buon Severus se non Adam Driver? Ma purtroppo è il sogno di tutti. Ma seguendo le leggi che vi ho descritto prima, Adam Driver è un attore americano e quindi qui bisogna prendere soltanto attori britannici. E allora, chi potrebbe interpretare, torniamo alla domanda, Severus Piton, un attore che sta veramente salendo alla ribalta con grandi prestazioni, una su tutti quella degli spiriti dell'isola, è Barry Keoghan, l'attore britannico, sta veramente dimostrando il suo valore appunto e prossimamente sarà il Joker in The Batman 2 diretto da Matt Reeves. A questo proposito lo vedrei benissimo di panni di Severus Piton anche perché fra qualche anno, quando inizieranno le riprese, se dovesse essere castato, il buon Keoghan avrebbe la stessa età di Severus Piton descritto nei libri alla sua prima apparizione. Quindi, se non lui, chi altri? Né Helen Mirren, 77 anni, né Judy Dench, 88 anni, possono essere castabili per la serie TV in quanto un progetto che durerà dieci anni le vedrà troppo in là con gli anni per interpretare un personaggio che apparirà in ogni stagione, ovvero la professoressa Meg Granit. Per questo ruolo io ci vedrei benissimo Olivia Colman che è perfetta in ogni suo ruolo e dà tutto il meglio di sé. L'abbiamo vista in The Crown, l'abbiamo vista recentemente al cinema con Empire of Light, nel quale ha dimostrato tutta la sua bravura. Olivia Colman, nei panni della professoressa Meg Granit, è perfetta. Burbero e Schivo è uno dei personaggi più difficili da mettere in scena per quanto riguarda la saga di Harry Potter, ovvero Alastor Moody. Inimitabile sicuramente il malocchio Moody interpretato da Brandon Gleeson che qui, come detto prima, non ci sarà per quanto riguarda le leggi dette in precedenza, i vecchi attori che hanno partecipato alla saga di Harry Potter non possono essere castabili. Quindi, per questo ruolo, se non dovesse essere scelto Jared Harris per il ruolo di Selente, vedrei benissimo il buone Harris per il ruolo di malocchio Moody. Altrimenti un attore giovane che dà quel senso di burbero e abbiamo visto anche recentemente in Venom è Tom Hardy. Ma il buon Hardy ha un contratto con Sony e non so se potrà apparire anche nei prossimi prodotti Disney in collaborazione con Sony visto che appunto si sta preparando l'universo cinematografico con i villain di Spider-Man molto probabilmente Venom avrà un ruolo principale. Non credo che il buon Tom Hardy riuscirà a scollarsi per il momento il ruolo di Venom ma se così dovesse essere lo vedrei benissimo nei panni di Alastor Moody. Sempre parlando di Tom Hardy lo vedrei benissimo vestire i panni di Barty Grouch Jr. che è evidente ha molte somiglianze con lui quindi se non dovesse essere scritturato per interpretare Alastor Moody magari una particina nei panni di Barty Grouch sarebbe l'ideale. altro attore perfetto per un personaggio che sembra scritto per lui ed è già sotto contratto con HBO quindi l'abbiamo visto in House of Dragon interpretare Daemon Targaryen ovvero Matt Smith con la chioma bionda è perfetto per interpretare Lucius Malfoy. Il contratto c'è già vediamo fin quando durerà House of the Dragon ma è evidente che è uno e gli attori che vedrei benissimo nei panni di Lucius Malfoy. Per quanto riguarda i familiari di Harry Potter andiamo a vedere chi potrebbe interpretare Vernon e Petunia Dardley. Per lo zio Vernon vedrei benissimo Mark Eddy il Robert Baratio di Game of Thrones per fisicità ci siamo e mancano un bel paio di baffoni e il gioco è fatto. Per la buona zia Petunia c'è l'attrice che abbiamo visto in Flight Attendant o in alcune puntate di Law & Order o anche le terrificanti avventure di Sabrina ovvero Michelle Gomez. Per quanto riguarda James e Lily Potter non c'è alcun dubbio. Gli attori perfetti per interpretare i genitori di Harry sono assolutamente James McAvoy e Sophie Turner la Sansa Stack di Game of Thrones mentre come sappiamo James McAvoy è l'attore che ha interpretato il professore X in X-Men in giorni di un futuro passato o l'abbiamo visto interpretare il villain in Split insomma due attori che fisicamente sono perfetti e di bratura neanche a parlarne insomma quindi il mio sogno sarebbe vedere questi due attori interpretare Lily e James oltre ai professori Silente e McGranite andiamo a vedere quali altri potrebbero essere degli attori che vedremo nella serie per Gilderoy Hallock cambiamo completamente le carte in tavola dopo Kenneth Branagh vedrei benissimo Rejean Page la sua bellezza intrinseca ce l'ha non ha il ciuffo biondo certo ma sicuramente farà la sua figura in una serie che promette di portare cambiamenti come ha dichiarato anche la produzione certo smentita leggermente dalle dichiarazioni di J.K. Rowling che non vuole troppo cambiare quella che è l'essenza dei suoi libri ma è evidente che qualche cambiamento ci sarà quindi perché no Rejean Page come Gilderoy Hallock continuiamo con i professori in questo caso andiamo a vedere chi potrebbe interpretare il professor Lupin secondo me un altro attore da prendere in considerazione per questo ruolo e che ha già lavorato per HBO ovvero Richard Madden il buon Robb Stark del Trono delle Spade lo vedrei benissimo nei panni di Lupin quindi un lupo mannaro riportandoci così alla mente i ricordi del lupo grigio del King Wolf del Red del Nord di Game of Thrones perché no una bella idea per rimanere in tema altrimenti vogliamo stravolgere ancora le carte in tavola perché non Dev Patel per interpretare il professor Lupin certo abbiamo visto Dev Patel in The Millionaire in Lyon La strada verso casa e in Green Knight Il cavaliere verde che è un prodotto Amazon ma è un gran bel film Dev Patel sappiamo che è molto bravo a recitare e ce lo vedrai benissimo nei panni di Lupin con un leggero cambiamento di aspetto però l'essenza rimane quella c'era la faccia da lupo mannaro un po' con i capelli al vento e quella barba incolta insomma Dev Patel come Remus Lupin non dovrebbe sfigurare moltissimo un'attrice che potrebbe ben figurare nel ruolo di Dolores Hambridge è sicuramente Gina McKee abbiamo visto la donna recitare fino a nascosto ed esplosa in Notting Hill non è una completa sconosciuta a 59 anni ha tutte le carte in regola per diventare la nuova Dolores Hambridge quindi perché no non per forza bisogna avere nomi forti per interpretare alcuni ruoli in questo caso passiamo al buon Raptor altro professore che vedremo nella prima stagione della serie tv e che potrebbe essere interpretato da Riz Ahmed un cambio drastico anche qui però sinceramente Riz Ahmed è l'attore ideale con l'aspetto giusto per interpretare il po 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 professor Raptor che ne dite? chiudiamo con la famiglia Weasley come detto Ron Jimmy i gemelli Fred e George molto probabilmente saranno interpretati da attori esordienti quindi andiamo avanti cerchiamo di capire chi potrebbero interpretare Arthur e Molly ovvero Martin Freeman e Rose Leslie Martin Freeman l'abbiamo visto in azione in Black Panther Wakanda Forever e ultimamente sta lavorando a Secret Invasion attualmente sotto contratto con la Disney ma chi lo sa quanto durerà il personaggio del buon Freeman nella serie tv potrebbe essere l'ultima apparizione di Freeman nei panni dell'agente segreto quindi mai dire mai mentre per i panni di Molly Weasley vedrai benissimo Rose Leslie ovvero la Ygritte del trono di spade e attualmente moglie di Kit Harington se non avete presente Ygritte beh devo dire che è identica a Molly certo fisicamente magari non è la stessa cosa ma il trucco fa miracoli insomma questi sono i principali attori che secondo me potrebbero interpretare i ruoli più importanti della serie tv di Harry Potter che arriverà molto probabilmente tra il 2025 e il 2026 se avete qualche idea scrivetela nei commenti e fateci sapere voi cosa ne pensate soprattutto di alcune scelte che ho fatto io vi ricordo di iscrivervi al canale di mettere mi piace e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati su quello che facciamo serie tv video e recensioni io vi ringrazio da Valerio Perrone e da Ciacca e Azione buona giornata grazie a tutti